Perché c'è un piccone che sta camminando per terra? In questo video rideremo un po'. E non perché io mi svestirò completamente nudo e non andrò a picchiare gli haters. Quello dopo. Ma perché andremo a vedere delle clip di dei fail di Fortnite che ci faranno morire da ridere. O almeno credo. Riuscirete a guardare il video senza ridere neanche una volta una prova a non ridere challenge? Vedremo, vedremo. E sfidate anche i vostri amici. Detto ciò vi ricordo che i connessionati puri sono iscritti al canale e hanno attivato la campanella. E soprattutto, se volete, siete completamente liberi di supportarmi nello shop col codice creatore Occhi PFI. Detto ciò, buona visione. E c'è un ninja che cammina verso una casa misteriosa. E un tomato che si lancia un tomato in testa. Bene, bene. E c'è un cecchino che, a quanto pare, mira a un tipo che vola su un carrello. Ce la farà a prenderlo? Ce la farà? Ce la farà? Signori, la tensione è al massimo! La tensione! Ma che... Bene, qua vediamo un nabbo e un calciatore che sta farmando... Pietra... Scolpendo un muro. Vedi... Cosa... Come ha fatto a evitarla? Come ha fatto a evitare quella trappola? Come hai fatto? Ah, ok. Non si scampa alla morte. Non si scampa. C'è il tizio che sta cercando di far cadere quest'altro tizio. Lui cade su... Favore... Ma... 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 Cioè, io insulterei il signore. Cosa sta cercando di fare il nostro caro mietitore? Ah, io non farei mai ste robe con i carrelli, ve lo dico. Io non farei mai ste robe con i carrelli. Guarda che muori. Lo so... Lo so che muore. Lo so che... E poi è stupido, eh. Cioè, il carrello arriva e lui si sposta per prenderlo in piena, se c'è. Non capisco niente in sta clip. E la grafica fa schifo. Qua vediamo il culo di Omega. Allora, c'è un nemico da quel lato delle scale. Attenzione. Qui... Oh, addio. Addio. Io avrei buildato una scala. È stato lanciato un fortino. E qua intanto... The Expert cura... Ma... Surprise, motherfucker. Ho un nano. A voi vi è mai capitato un nano? Cos'è successo? È nudo. No, questo l'avevo fatto anch'io una volta. No. No, non funziona, amico. Non fa... No, non farlo. È finita. È finita. Fortnite è un gioco bello. Bello, Fortnite. Fortnite è un gioco bellissimo. Bravi. Questo è. Attenzione. L'astronauta... Viene colpito. È in un clutch. Non ha vita. No... Cosa succede? Attenzione, il nemico è... Lo pusha dall'alto. Lo pusha dall'alto. Salto della fede. E muore. È pazienza. No. So che succede qualcosa di devastante. Oh, parcheggio perfetto. Perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere. Ah, ci sono i due... I due... Gli altri due che lo seguono. No. Che... Che... Che brutta persona. Avete visto cosa ha fatto? Che brutta persona. E... Ha sbatt... Ma... Ma ho sbattuto la testa. Ma povero. No, no. Sei scemo. Non farlo. Io gli avevo detto di non farlo. Ehm... Co... Cosa? Il tizio entra nella casa come se non ci fosse una trappola. Eh, infatti. Oh mio Dio. Ma c'è la tele... È stato trollato malissimo. A quei tempi Fornet era il gioco più bello che esistesse. No. Poverino. Poverino. Raga, la prigione. Quanto tempo che non vedevo la prigione, Dio. Torna indietro, razzo di schifo. Così impara, diamine. Ti sta bene, Kaufman95. No, ora lo buttano fuori dalla mappa. È al bordo. No, lui butta loro fuori dalla mappa. È tipo sembrava il Torero tipo... Addio. Gli sta benissimo. Lui cade. Attenzione Bunchpad. Il razzo l'ha sfiorato. Lui è morto. E guardate che una palla da golf sui denti fa male. Una palla da golf in bocca, fidatevi che fa male. Cosa potrebbe mai succedere? No, no. Lo investe. La, la... Pfff. Ok. Si sta grattando il culo. Vai! Corri, Forest! Corri! Corri! Oh! Grande! Grande! Paco. Ecco una di quelle cose che non andrebbero mai fatte. Giocare con i rift e con le macchine a bordo mappa. Imparate ragazzi. E scendi dalla macchina. Scendi dalla macchina! Builda! Eh, va beh però, eh. Sì, cioè... Non puoi passare! E invece... E poi dicono che la drum gun è OP. Guardate quanti colpi in testa gli ha fatto e non è ancora morto, dai. Chi dice che la drum gun è OP, dai. Non sapete niente di questo gioco, cioè... Dai raga. Come è morto? Ah, che amore! Ballano due di due squadre diverse. Che amori. Bene, allora ognuno va per la sua strada. E invece... Attenzione! Qua si luta per un bel po'. Arriva la macchina... E uccide tutti. No, non dirmi che... Cosa sta facendo? Quest... Ha rubato la macchina a quei due! È proprio un rumeno! Ma che... Ecco, lezione di questo video, perché io già lo prevedo. Mai usare le granate ad impulso quando sei su una montagna. Questo è il perché. Questo è il perché. Vai, tutti dentro! Trappolina. Palese. No, questo l'avevo già visto. C'è lui fermissimo che vince la partita. Bellissimo questo. Con 12 di vita. Allora, io non sparerei al cubo, ti dirò la verità. Ah, è vero! È vero che il cubo non faceva niente! È sparito. Attenzione, Faris! Eh! Eh! Chi troppo vuole non la stringe. Perché c'è un piccone che sta camminando per terra? Perché c'è un piccone che sta saltellando? Corri, corri, corri! 9 secondi! 9 secondi per tirarsi il medkit! 6! La tensione è alle stelle! 4! Uè! Ah, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Io avrei bestemmiato il Gesù. Che skin è mai questa? Raga, nuova skin liccata! Assolutamente! Guardatela! Fa schifo? Sì, anche a me. C'è un carrello indemoniato. Ah, no! Raga, sono due carrelli. Chissà cosa staranno facendo lì da soli. È la cosa più giusta che tu abbia potuto fare. Vecchi, questi erano i primi tempi di Fortnite. Come fa ad avere 900 materiali? Che senso aveva farli? Tanto non venivano mai usati. I primi tempi di Fortnite? Ok. Ok. E tu gli spari quella? E lui sparisce nel nulla. Bene! Bene! 3-16-0-scope. Ma da quando queste macchine hanno il nitro? Ma cosa è successo? Io sarei rimasto in macchina a sto punto. Vai, buttati! Buttati che è morbido! Ma sono due metri più avanti. Lì non era morbido. Sta skin fa schifo ed è omosessuali. È bruttissima, raga. Vi prego, ditemi che non ce l'avete. Dimmi che non avete sta skin, vi prego. Diarrea, amico. Vai, vola via! Oh, là! Ma dove? Ma l'ha sparato nello spazio! Ma che cosa? Ma... Sta guardando il culo alla signorina. Ma non si fa! Non si fa! Wow! Grandi! Grandissimi! Wow! Mai giocare coi carrelli vicino alle montagne. Ecco perché. Ecco perché. Eh, vabbè, dai. Adesso l'altro lo salva. Come non detto? Cosa succede qua? Lui lo... Bene, ecco. Il tipico scherzo degli amici che ti lanciano via con le granate. Che burloni! Ah ah! E poi cade il carrello e lo spinge via. Così impara. Chi di granata abballe... Quella lì colpisce... Di carrello perisce. Wow! Ma... Stanno prendendo il volo! Ma che cosa? Signori, missione nello spazio! Parte adesso! Bene! Non sapevo che il pom... Ecco perché hanno rimasto il bomba del nonno, raga. Per questo. Lui vede il nemico dall'altra parte della finestra, no? Dice... Ah! Spariamogli, no? Spar... Lo manca! Ma strano, sembrava di averlo preso. Riproviamoci. Ah! Bene! Ah! Beh! È un gioco bello, Fortnite! Raga, io direi che per oggi basta così. Condividete il video con i vostri amici. Sì!